Verso le 17 di ieri, a Palazzo Marchetti ad Arco, si è tenuta una breve cerimonia privata tra proprietà, investitori, autorità e amministratori per celebrare l'inizio dell'attività Le Cucine dei Conti, ultimando la ristrutturazione del piano terra dello storico edificio di valore anche affettivo per la comunità arcense. La proprietà ringrazia le banche che hanno finanziato il progetto e tutti gli artigiani impegnati nei lavori, nonché lo studio plan che ha seguito il progetto. A rappresentare l'amministrazione comunale arcense vi erano il sindaco Alessandro Betta e l'assessore alla cultura Stefano Miori. Tra gli invitati anche il presidente di In Garda, Marco Benedetti, e il presidente degli artigiani, Roberto De Laurentiis. L'opera di ristrutturazione continuerà sia nella corte interna che al primo piano, dove si trovano suggestive sale con altrettanti affascinanti affreschi. La fine dei lavori è ormai imminente e nelle prossime settimane verrà organizzata un'inaugurazione ufficiale aperta a tutta la cittadinanza. Vediamo le interviste. Due notizie storiche su questo palazzo. Quando i conti d'arco lo trovarono scomodo, recasse tutti i giorni al castello, realizzarono attorno alla piazza e alla collegiata alcuni palazzi. Questo in particolare era il palazzo di San Pietro, perché sorgeva accanto all'antica chiesa che era fuori dalle mura, dedicata proprio a San Pietro. Apparteneva al ramo dei conti d'arco di Andrea, di fatti lo vedrete sui stemmi che sovrastano i due portali di ingresso. E poi anche nello stemma che è qua dentro, dove già si vedono le losanghe azzurre della Baviera. Oggi come amministrazione siamo qui a vedere questa presentazione di lavori che sono stati fatti sul palazzo Marchetti. La convinzione è che la politica spesso ha parlato di questo palazzo, dei suoi affreschi, spendendo ore e ore in mozioni, interrogazioni, interpellanza. Oggi invece i privati, non credo che sia frutto di quel lavoro, ma è frutto di una città che è viva, una città che consente di avere molti turisti, che quindi dà dal punto di vista economico solidità. Ci sono stati degli imprenditori che hanno messo a disposizione le proprie risorse economiche, la propria passione, per ridare alla nostra città questo palazzo, che quindi riprende a camminare con vigore. Quindi da parte dell'amministrazione c'è soddisfazione. Il palazzo Marchetti è uno dei simboli di questa città, di questa comunità, con i suoi altri monumenti, della collegiate, il castello. Però sicuramente il palazzo Marchetti, insomma, con i suoi particolari cammini che guardano il castello di Arco, entra nell'immaginario di tutti. Verso la metà del 1800 il castello diventa proprietà della famiglia Marchetti. Saverio Marchetti, originario di Bolbeno, arriva ad Arco come giudice, stabilisce qua la sede del tribunale e poi acquista il palazzo. Va ricordato nella stirpe dei Marchetti, vanno ricordate alcune figure importantissime. Prospero, il primo podestà di Arco nell'epoca del Curor, grande innovatore, fondatore della SAT e primo presidente della SAT. Giacomo, anche, è diventato sindaco a Tione, innovatore, vicino all'italianità, ovviamente. Poi Carlo, altro podestà di Arco. E infine Prospero II, Prospero II, che è il primo sindaco di Arco italiana. Ecco, la mia gioia è vedere in parte il palazzo che rivive, l'augurio mio, è che anche questi lavori continuino, sovraguardando soprattutto la fascia interna ed esterna di Affreschi, che sono un'opera preziosa d'arte rinascimentale. Di oggi torna a essere anche patrimonio di questa comunità, che potrà essere qui a mangiare, a separare non solo durante il giorno la parte del bar, ma anche i piatti. Siccome mi hanno un po' insegnato che con i piedi sotto il tavolo escono i migliori ragionamenti, insomma, da parte dell'amministrazione c'è soddisfazione, fa i complimenti ai privati che si sono messi in gioco e avanti così, insomma, per la nostra bella città, la nostra comunità, che insomma, anche in periodi non facilissimi, però dà sempre segnali positivi. Questo, insomma, noi come amministrazione non possiamo altro che guardarlo con delle prospettive che guardano a un futuro un po' più tranquilla.